E svegliarsi la mattina, eh, tuturuturututu, con la voglia di bestemmiare, dammi un caffè. E se non te svegli fai tardi, eh, tuturuturututu, e tu madre te piaccarci. Oddio no, è il primo giorno di scuola! Queste sulle famose sette di mattina, da quant'è che ne vedevo? Oh, pensavo fossero solo una leggenda come Babbo Natale, invece esistono davvero. Tocca a sbrigasse che già sto a far tardi il primo giorno. Fermate! Oh, conducente! Ce sto pure io! Oh, non mi fai a perdere l'auto, sennò come ci arrivo a scuola? Ronaldo, è il tuo primo giorno e già sta in ritardo? Quest'ora è neè, colpa mia, l'auto non si è fermato, so' cascato le facce in una pozzangra, mi so' fracicato e so' dovuto andare a cambiare. Sì, vabbè, già iniziamo con le scuse, eh? E Pogba invece dov'è? Eh, professore, Pogba, ci ha avuto un grosso problema con la nonna, non può venire oggi. Professoressa, ma non li correggi i compiti delle vacanze? Ahia, professoressa, Ronaldo mi ha tirato un pennarello. Professore, lui se cerca, veramente, mi ha levato dai mani quel pennarello. State buoni! Piuttosto, avete letto quest'estate? Sì, professore, io ho letto l'etichetta do shampoo. Io ho scritto seconda parte del mio libro, professoressa. La Bibbia 2. Io vi giuro che quest'anno vi boccio. Lei non boccia proprio nessuno, al massimo è Zlatan che boccia lei. Io non vi sopporto più, meno male che questo è l'ultimo anno. Non penso. Professoressa, a Ronaldo sono sei volte che fa il quinto. Probabilmente questo non sarà mai il suo ultimo anno. A me sì, state zitte e porti zella. Te lo dico io, questo sarà il mio ultimo anno in questa scuola. Professoressa, posso andare al bagno a cambiare il catetere? Per quanto vi sembrerà strano e per quanto non crederete mai ai grandi, quelli che vi dicono che gli anni della scuola saranno i migliori della vostra vita, vedete una cosa, un pizzico, c'hanno ragione. Per quanto sembri tutto una fatica, un giorno rimpiangerete di non stare più su quei banchi, in mezzo a quei quattro pazzi dei compagni di classe. Rimpiangerete i camposcuola, rimpiangerete la spensieratezza, le amicizie, i primi amori e vi giuro che probabilmente qualche professore vi mancherà pure. Sembra pazzesco, lo so, ma è così. La fine della scuola sancisce l'inizio delle vere preoccupazioni, delle vere responsabilità. Quindi, anche se vi sembrerà dura, godetevi ogni minuto, secondo, passato tra i banchi. Porterete tutti quei momenti nel cuore e probabilmente tra dieci anni, a pensare ai banchi di scuola, alla vostra vecchia classe, ai vostri vecchi professori, un sorriso vi scapperà. Buona scuola a tutti, chicchi. Belli chicchi! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Se vi piace questa serie di calciatori a scuola, lasciate almeno 12.000 like per la prossima puntata. Consigliatemi nei commenti qual è il prossimo video che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli chicchi! Belli chicchi!